Il servizio vale più di 100 vittorie. L'amministrazione comunale ringrazia. Anche qui una frase del grande cestista Karim Alconciabar. Ai bambini dico sempre di inseguire il sogno di giocare, ma dico anche di non lasciare che sia il loro unico sogno. Opriamo un altro ringraziamento, opriamo questa frase e questa targa a Rosanna Bassani. Grazie. La società, l'associazione sportiva, abbiamo circa 200 soci dall'ultimo anno della scuola materna fino poi al senior. Particiciamo alla paese campionale della zona. Purtroppo ultimamente ci sono aspetti molto distanti, per cui sparte, che andranno in un senso di tirano, anche ai problemi. Aspetti che ci permettono anche di essere soddisfatti, di riuscire a limitare qualcosa. L'associazione al consumo, volontà di citare pregazione, punto sostegno tra soci. Ma anche, cose molto importanti, affermazione dei diritti di tutti, attenzione alle libertà locali e globali, interesse alla sostenibilità ambientale. Dalla cooperativa familiare alla cooperativa laverattese, dalla co-unione alla co-vicinato Lombardia. 106 anni di cooperazione e di consumo, 106 anni di valori praticati con spirito di gratuità, 106 anni di gratuità. L'amministrazione comunale ringrazia, ricorda e ringrazia, il premio viene dato alle donne e agli uomini, che vuol dire lavoratori, dirigenti, volontari, soci, alle donne e agli uomini della cooperativa di Osnago. Grazie. Grazie. Per la parola di significare i nuovi, mi devo invitare a tirare questo riconoscimento, anzitutto il Presidente della Coppia di Cinato Lombardia, il signor Carlo Pazzani. Come dire, poi il mondo si evolve e cambia e di conseguenza ci sono anche le necessità di prendere decisioni che a volte compiacciano molto il riservizio e dall'altra parte di mantenere un servizio che è comunque gestito nell'ambito di una forma di cooperazione. Sulla questione di che fine avrà questo punto vendita, perché non ha avuto un'evoluzione, noi c'eravamo auspicabile, molto bello all'esterno, molto bello all'interno, eccetera, però scusate la barchezza, è utilizzato più o meno dal 18-20% degli ospagheti. Oggi abbiamo scritto una lettera a 893 persone, che vuol dire che dei 300 che...